Il Liceo Artistico Mengaroni ha un indirizzo dedicato agli audiovisivi, da noi quindi si studia filmica, animazione, fotografia. L'anno scorso abbiamo realizzato un progetto dedicato proprio al cinema, cinema e città, Mengaroni a porte aperte. Con questo progetto i ragazzi si sono cimentati con la costruzione di un film realizzato e ideato dagli stessi ragazzi. Il progetto in realtà è stato più ampio perché si è passati da una fase teorica in cui i nostri studenti e le nostre studentesse hanno avuto modo di conoscere grandi autori del cinema contemporaneo, ma anche del secolo scorso. Si sono confrontati, hanno visto film e poi hanno realizzato insieme a Mauro Santini tutta una serie di cortometraggi ispirati proprio al loro percorso scolastico. Ora, oggi noi restituiamo il lavoro dei ragazzi e invitiamo la città ad ascoltare quelle che sono state non solo le loro proposte, i percorsi didattici e anche quello che in qualche modo hanno realizzato, ma vogliamo proprio condividere con la città quello che il Liceo Artistico Mengaroni fa per questa città, cioè realizzare bellezza, creare e soprattutto dare, unire quella parte di scuola che unisce le conoscenze con le competenze. Noi speriamo di farcela e oggi vorremmo proprio dirlo a tutta la città.